Mi definisco da Trentino all'estero, sono davvero fiero e orgoglioso, ringrazio Presidente e Vicepresidente per avermi nominato alla guida di un'istituzione museale così prestigiosa come il Muse. Gli anni a venire sono anni sicuramente importanti per il Muse perché si tratta di riorganizzarlo dal punto di vista della produzione editoriale, quindi della diffusione degli esiti della ricerca e dal punto di vista anche della sua visibilità e dei suoi rapporti con il territorio perché a me piace pensare al Muse come un museo del territorio, nel territorio e per il territorio e quindi intrecciare feconde collaborazioni con altre istituzioni museali del sistema trentino secondo me è la strada maestra da seguire per avviare delle innovazioni perché la collaborazione determina sicuramente innovazioni. Grazie a tutti!